Sono stati in tutto 167 i casi segnalati al Codice Rosa della ASL Toscana Sud-Est da gennaio a settembre 2021. In 149 casi è stato maltrattamento nei confronti di adulti, un caso di abuso, 14 di maltrattamenti ai minori e 3 di abuso su minori. Sono i dati ASL in merito alla violenza contro le donne e non solo. Nella settimana in cui in tutta Italia si susseguono iniziative di sensibilizzazione sul tema in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 di novembre. Il totale delle denunce è nettamente sopra il 2020, l'anno del lockdown, e sotto il precedente, il 2019, e vede un'impennata preoccupante nel terzo trimestre dell'anno, specie sul fronte dei maltrattamenti nei confronti delle donne. Il motivo è probabilmente legato proprio al lockdown, quando le denunce erano calate per la difficoltà delle vittime di uscire e lamentare gli episodi di violenza. Quest'anno, oltre alla consueta celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la ASL Toscana Sud-Est ha aderito all'Open Week dal 22 al 28, iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, dedicata proprio a questo tema. Nell'ambito di questa settimana, sull'home page del sito dell'azienda sanitaria e sulla pagina Facebook della stessa, sarà presente un banner cliccabile che riporta alla pagina del Codice Rosa, con l'intento di mettere in evidenza e l'immediato accesso a tutte le informazioni utili per chi subisce un atto di violenza. È indubbiamente ai casi sommersi che ci dobbiamo rivolgere, principalmente che purtroppo sono ancora tantissimi. Da ricordare che il numero dell'emergenza da chiamare, il 1522, è riportato da qualche mese anche negli scontrini delle farmacie comunali.